Domenica Cavese-Potenza, mercoledì prossimo Urbs-Regina-Cavese, domenica 16 dicembre Cavese-Monopoli. Nello spazio di otto giorni la formazione Bianco-Blu giocherà tre partite, proverà a gestirle tutte e tre, così come ovviamente dovranno cercare di fare anche le avversarie, ma l'allenatore Giacomo Modica dovrà pensare non solo alla gara che la sua squadra sta affrontando al momento, ma anche un po' a quella successiva. Quindi ben vengano le cinque sostituzioni a cui ha diritto. L'anno scorso, con la squadra allestita per il campionato di Serie D, i metelliani, sotto la guida di Mr. Bitetto, riuscirono a ricavare ben nove punti in tre gare, contro Picerno, Francavilla e Nardò, segnando sei gol senza subirne neanche uno. L'organico della Cavese era alquanto diverso da quello di adesso, come esperienza e fisicità media, ma all'epoca furono le sostituzioni, oltre ai ricambi, a risultare fondamentali. E permisero all'allora tecnico metelliano di ottenere il risultato migliore. Adesso, con la squadra in Serie C, la Rosa è leggermente diversa in età media e quindi gestire le risorse energetiche conterà molto. In tal senso, Modica spera di riuscire a recuperare, nelle migliori condizioni, la punta Jacopo Sciamanna, il quale al momento è stato alternato al centro dell'attacco con Hitley, il quale invece non soffre attualmente per problemi fisici. Per il resto, le alternative non mancano al mister. Cavese Potenza potrebbe vedere la presenza a Lamberti di moltissimi tifosi. Il fatto che la squadra Quilotta sia riuscita a raccogliere il pareggio a Catanzaro, giocando anche bene, incoraggerà i sostenitori campani a recarsi allo stadio in ottimo numero e anche il momento positivo del Potenza porterà i suoi tifosi in trasferta. Anche se vi è una restrizione. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti in Lucania è stata attivata, ma potrà riguardare solo i possessori della Fidelity Card. Stesso genere di restrizione potrebbe essere istituito anche per Cavese Monopoli del 16 dicembre, dato che l'osservatorio ha suggerito di autorizzare la vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai soli possessori della Card rilasciata dal Monopoli. Per Urbs Regina Cavese non si hanno al momento notizie di restrizioni.